Ciao! Vivi in una ridente e assai discreta cittadina, in cui tutti amano allegramente farsi un cazzi di tutti? E tu? Pensi di essere il più grande esperto in materia? Pensi che addirittura nemmeno quelle vecchie zitelle di paese, che sono solite ritrovarsi abitualmente in chiesa, per spettevolare dalla mattina alla sera, possano competere con te e con le tue conoscenze e competenze? Pensi di meritare tu il primato di più grande sciampista dell'anno? E se c'è una rissa, un litigio o una qualsiasi altra minchiata, sei sempre lì in prima fila col tuo telefonino? Ti piace mettere di zagna, ti diverte e hai fatto di tutto questo la tua unica ragione di vita? E allora, non esitare e chiamaci, perché qui a Re-Educational Channel abbiamo quello che fa al caso tuo. Contattaci e partecipa a Ticazzi, il nuovo quiz a premi di Re-Educational Channel, in palio innumerevoli premi. Radona tutta la squadra di sciampisti del tuo paese, confrontati e conosci altri sciampisti proprio come te, e mettiti alla prova, scopriamo se sei davvero tu la più grande sciampista dell'anno. Puoi vincere una fornitura dei migliori sciampi, balsami e bigodini e quant'altro ti occorre per essere una sciampista coi fiocchi. E ancora, l'abbonamento a Di Più, Di Tutto, Novella 2000, Grand Hotel e sciampista moderna. E ancora, ti faremo andare sul set di sciampisti su Marte 2, la seconda passata, e partecipare alle riprese. E allora, cosa aspetti? Non esitare, chiamaci, invia un'e-mail a sticazzi, chiocciola, re-educational-channel.it, oppure chiamaci allo Zè... Dimenticavo, sei una sciampista, sicuramente già conosci il numero. E allora, dai, ti aspettiamo. Ricorda, su Re-Educational Channel, sticazzi. Grazie.